L'università popolare vuole dare la possibilità a quest'uomo, a questa donna che viene presa dai problemi della vita di estrinsecare la propria creatività. Per cui non soltanto una cultura asettica, vaga, circoscritta ai libri, ma una cultura che venga tradotta praticamente in manualità, nel fare, nell'ordinare, soprattutto nel socializzare. Fare cultura al di là degli schemi scolastici, un percorso di crescita per imparare a conoscere e scoprire cose nuove nei settori più diversi, dalla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla grafologia, all'arte, intesa in tutte le sue forme. Un'occasione rivolta a tutti, dai singoli cittadini agli enti, dagli aziende private, a chi vuole coltivare passioni che per motivi professionali ha dovuto accantonare. È l'obiettivo della prima università aperta del Mezzogiorno, un'associazione senza fini di lucro, nata a Bari nella storica sede dell'Istituto Religioso di Cagno a Brescia. Un'idea nata dai baresi Nicola Marrone e Vito Cracas, due uomini impegnati nelle loro professioni, commercialista l'uno e critico d'arte l'altro, che hanno in comune la passione della cultura e che desiderano condividerla con i baresi. La Unisud inizia a farsi conoscere con un corso di sicurezza nei luoghi di lavoro. Vogliamo mostrare questa sensibilità nei confronti dei lavoratori e quindi in un momento storico particolare in cui succedono una serie di incidenti nelle aziende per scarsa preparazione e competenza per quanto riguarda appunto la prevenzione al rischio, noi abbiamo deciso di avviare questi corsi, di partire con questi corsi proprio perché vogliamo dedicarci alle aziende. Ricco il calendario delle iniziative che seguiranno il corso di sicurezza nei luoghi di lavoro a partire da un bando di concorso artistico letterario musicale al quale seguirà un corso teatrale, uno fotografico e altri dedicati all'ambiente.